Siamo a un buon punto, siamo in tempo come programma, abbiamo finito i lavori edizi, la data Leibner sta per finire il montaggio delle stazioni, i sostegni sono stati montati l'ultimo, quindi a dico l'elicottero, finiremo i lavori a metà ottobre per poter preparare tutto per fare il collaudo a fine ottobre e per essere pronti per la prossima stagione invernale. Siete riusciti a fare una stima esatta dei danni che avete subito dopo la sospesa dei lavori del TAR? Sì, abbiamo fatto bene la stima, arriviamo su circa un milione d'ero, però nel consiglio abbiamo detto di concludere questa parte, siamo molto felici di aver potuto continuare, che ci ha dato retta, che eravamo a posto, che le concessioni erano a posto e di aver potuto partire con i lavori e di poterli finire quest'anno.